Il centro-sinistra prepara le primarie in vista delle prossime elezioni regionali che dovrebbero svolgersi in autunno. Il voto delle primarie è previsto giorno 23 luglio e le candidature potranno essere presentate entro il 30 giugno. I cittadini che decideranno di indicare i candidati in vista delle prossime elezioni regionali potranno registrarsi già nei prossimi giorni sulla piattaforma informatica con documento di identità e una volta completata la registrazione potranno esprimere la propria preferenza sia da remoto che in uno dei 32 punti voto fisici che verranno allestiti in tutto il territorio siciliano. Alla presentazione del regolamento per le primarie hanno preso parte diversi esponenti del centro-sinistra, quali Claudio Fava di Centopassi, Entoni Barbagallo del PD, Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle, Pippo Zappulla per articolo 1, Manuela Parrocchia e Paolo Montalto per sinistra italiana, Nino Oddo per il Partito Socialista, Mauro Mangano e Antonella Ingianni per Europa Verde.